mio padre ci ha sempre portato al cinema da piccoli il cinema per noi non era un luogo per andare a vedere un film era un luogo dove andavamo per abritarsi dalla pioggia perché abitavamo una stanza eravamo otto o nove figli una stanza all'inverno non potevamo stare lì fuori pioveva i giardini eccetera dunque quando mio padre tornava dal lavoro andavamo in questo cinema che era vicino a casa e ci ha portato da bebè a vedere i film ma vederli più per stare lì a vedere immagine anche per stare un posto diverso e lasciare la nostra madre tranquilla a preparare la cena eccetera e penso da bebè sono cresciuto con questi rumori di fondo di film americani indiani italiani poi piano piano a una certa età con altri amici ho cominciato ad andare da solo al cinema vendevo una cosa e guadagnavo un po di soldi per poter vedere un film ricordo più forse più forte del primo impatto del cinema è stato penso quando ho visto ladro di biciclette di vittorio zica lì perché forse c'è l'identificazione del ragazzo del bambino che ha questo padre che ruba questa questa bicicletta e da lì penso che è stato un come un colpo di fulmine vedere che che forse aveva il cinema touchè è stato presentato a venezia che ho sempre questo problema io che all'inizio i miei film sono sempre così mal compresi mal accettati all'inizio e touchè mi ricordo era un film che perturbava come luce luce mi ricordo anche lui ha creato tanti divisioni nella non solo il pubblico ma la critica e poi passa un anno dopo incontro quasi le stesse persone ma scusami non avevo capito all'epoca che cosa d'un lato mi fa molto onore di anticipare perché il ruolo dell'artista è di non raccontare un fatto ma di avere questa intuizione di anticipare nella storia dell'arte ci sono mio parere tanti artisti modestia a parte che hanno sempre anticipato il loro tempo il loro momento perché a mio parere è questo che è importante avere questa visione di quello che sta succedendo buttandolo dieci anni dopo eccetera e dopo tuccia ho fatto diciamo il primo film italiano italiano perché l'albero dei destini sospesi era un film prodotto da pier giorgio bellocchio e marco che la rai ha voluto dunque una storia tra un marocchino un emigrato e una storia d'amore tra un marocchino e un italiana e poi arriviamo a Mirka il mio ultimo film che anche lui è la storia di un bambino che proprio l'immaginazione estrema perché un bambino nato da un stupro che non ha madre non ha identità non ha niente e va alla ricerca di tutto per non solo inserirci nella società nella famiglia nel mondo dunque per me è stato anche proprio l'immaginazione estrema è stato per noi una una sfida di raccontare di nuovo una storia di immaginato ma a un livello più grande e certamente la sfida era molto dura perché è bella la favola ma dietro alla favola c'è sempre le cose pesante dure da supportare Mirka è stata una grande esperienza sul piano cinematografico per me ma anche sul piano produttivo amichevole e non so che dire su Mirka c'è tante cose da raccontare